Venditalia 2024 continua, siamo allo stand di Star Coffee SRL, una torrefazione siciliana che fa un caffè di eccellenza e siamo in compagnia di Giuseppe Monti, l'amministratore delegato dell'azienda. Buongiorno Giuseppe e benvenuto. Grazie, buongiorno a te. Non è la prima volta che ci incontriamo, ci siamo incontrati più volte e io ho sempre avuto una gran bella passione per la tua storia, allora facciamo così, dilla anche tu, raccontala in un minuto ai amici di BendingTV.it. E niente, io nasco come rappresentante, quindi per altre aziende di caffè. Poi mi decido di lavorare in proprio, creo la prima torrefazione e da lì inizio il mio percorso. Un percorso che si è evoluto anno dopo anno perché un po' come Bill Gates che ha realizzato la Microsoft, tutto è nato in un garage. Fondamentalmente non era proprio un garage perché sai, essendo alimenti doveva essere più, però diciamo che l'aria di produzione era come un garage, nel senso piccolissima, circa sui 30 metri quadri. E oggi? Oggi abbiamo un'azienda di 2000 metri quadri e quindi voglio dire, le cose sono un pochettino cambiate. Già molto più strutturata. Sì, molto più strutturata, infatti ci presentiamo in questi eventi più strutturati, con una squadra, non so se hai visto, abbastanza corposa. Stiamo cercando di andare anche fuori la Sicilia e anche oltre l'Italia, quindi diciamo che ce la stiamo mettendo tutta. Come dico nello spot, ci metto pure la firma. In realtà ho visto, anzi la prima cosa che mi è saltata dall'occhio è proprio la tua squadra e l'abbigliamento che indossavano perfettamente allineato all'immagine aziendale con gli abiti di colore nero, le magliette di colore nero e il marchio, il logo dell'azienda qui e lì sulle magliette. Complimenti. Grazie, grazie comunque. E allora Giuseppe, raccontiamo a tutti loro in pochi minuti quali sono le novità portate qui a Vinditalia 2024. Allora, di fatto novità non ne abbiamo portato, stiamo semplicemente riaffermando quello che abbiamo già portato nell'edizione precedente. Ovviamente stiamo cercando di farla conoscere anche nei paesi esteri, infatti abbiamo avuto molti contatti e speriamo che tutto vada bene. Un'edizione ben riuscita. Sì, 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 devo dire sì. Un'edizione ben riuscita. E allora Giuseppe, forniamo a questo punto a tutti loro l'indirizzo di posta elettronica per scrivere a Star Coffee, infochiocciola starcoffee.srl.it. In questo modo, mettendosi in contatto con te, con voi, con l'ufficio commerciale, sarà possibile avere una campionatura eventuale, richiedere informazioni e perché no, iniziare da subito, una collaborazione commerciale a tutti gli effetti. C'è anche la possibilità nel nostro sito, Espresso Italiano di Giuseppe Monti, registrarsi e anche lì avere la possibilità di avere la merce direttamente, fare degli ordini, quindi abbiamo aperto anche questo canale per i contatti più veloci. Grazie, grazie Giuseppe, siamo entrambi stanchissimi, sono stati quattro giorni infernali. Concordo, concordo. Grazie a voi, grazie. Grazie.